Oh, sono così stanca! Di ciao a questa mamma normale! Ama cucinare, guardare i blogger, ballare! Che noia! Guarda qui! Ed ecco sua figlia Rosie! Anche lei ama TikTok! Che buon profumo! Rosie! Arrivo! Oh, guarda cosa ho per te! Che schifo! I broccoli sono disgustosi! No, grazie! Mamma, voglio questi! Piccola, scusa, non ho soldi! Sono stufa! Sembra che qualcuno sia davvero arrabbiato! E questa è Ellie! Sua mamma è una super blogger! Ma quella è la sua unica buona qualità! Conosci questa star di internet? Se la risposta è no, è ora di conoscerla! Ehi, mamma, facciamo una passeggiata insieme! Piccola, mi dispiace, devo andare a una festa! Ok, ciao! Pensi ancora che sia lei la fortunata? Bene, entrambe le ragazze devono imparare! Ognuna ha i suoi problemi! Siete pronte? Ellie è una superstar a scuola! I fan la seguono ovunque! Rosy non ha ammiratori! Ciao! Puoi muoverti? What? Non mi interessa! Wow! Mi piacerebbe avere una mamma blogger! Saremo una famiglia bellissima! Interessante! Attenzione, prego! Ebbene, questa settimana vi scambierete i genitori! Non dimenticate di divertirvi! Oddio, è ridicolo! Bene, tu e tu! Che lo spettacolo abbia inizio! Ciao a tutti! Oh, scusa! Grande, sei la mia nuova mamma! Ehi, allontanati! Fammi fare un paio di foto! Che look! Pensaci tu! Tieni! Dove sei? Rosy sta per firmare un contratto! E avrà tanti nuovi compiti! Firmato? Ottimo lavoro! Ciao mamma! Ciao tesoro! Vuoi uno sneaker? Ci divertiremo! Ho pensato a tutto! Che cos'è? Au! Questa è la tua nuova casa! Sei eccitata? Mettiti comoda! Qualcuno mi porti via di qui! Non c'è bisogno di tirare! Siediti! Aiuto! La nuova mamma insegnerà Ellie a cucinare! Forse! Fermi! Dove sono le telecamere? Strano! Qui non ci sono! Forse nel mobile? E la ciliegina sulla torta! Che bella! Giusto! Se vedi una situazione strana, avvia lo streaming! Wow! È deliziosa! Cosa fai? Spegni! Mangia un po' di torta! Sul serio? È per me? È deliziosa! La mamma gentile non smette di sorprenderla! Anche il succo! Come sta, Rosie? Meglio che mai! Grande! Questo è il paradiso! Ehi, non stare lì sdraiata! Il video di TikTok non si filmerà da solo! Avanti! Abbiamo bisogno di contenuti interessanti! Oh, degli snack! Basta, basta! Chi ha detto che puoi mangiare? Che fallimento! Ricorda, puoi guardare ma non toccare! Ma il mio contratto non lo dice! Adesso sì! Leggi attentamente, piccola! Andiamo! Ciao! Crunch! Crunch! Bello, vero? Oddio, che vergogna! No, no! Butta tutto nella spazzatura! Hai visto? Che perdente! No, mi piacerebbe avere un po' di torta della mamma! Mi sento così male! Ok, dalle i noodles! Ne vuoi un po'? Sì! Che schifo! Sei così lunatica! Tieni, mastica e calmati! Non è il pranzo dei suoi sogni! Va molto meglio! E cos'è quello? Sbrigati, provalo! Ah, cos'hai fatto? Stupidina! Rosie non dovrebbe buttare via le etichette! Ok, andiamo! Ehi, cos'ha la tua faccia? Sorridi! Wow, quante emozioni! E nessuna va bene! Pensaci tu! Niente sorriso, niente dolci! Che tristezza! Ripeti dopo di me! Sorridere sempre fa parte del tuo lavoro, capito? Che carina! No, non lo è! Non così! Orribile! Anche Ellie si sta divertendo con la mamma! Wow, le bacchette! Dammele! Uno, due, tre... È semplice! Tutti dovrebbero vederlo! Ok! Pronta, principessa? Wow! Che bel maglione! Mi sta bene? Sei proprio carina! Devo fare subito un selfie! Sorriso! Ehi, perché tanto odio? Non preoccuparti, va tutto bene! Wow! Tutti questi dolci sono per me! Diamo un'occhiata a TikTok! Queste ragazze sono in fiamme! Abbiamo ballato e ora basta! Ok, fermiamoci! Posso dare un'occhiata? Se tua mamma è una blogger, non ti annoierai mai! Oh, forse sì! Bel libro! Buttalo via! Oh, il tempo passa così in fretta! È tempo di leggere le favole! Prendi questo cattivo! Ah, sono morto! Wow, questo è più emozionante di Squid Game! Un regalo per la figlia più carina del mondo! Tesoro, calmati! C'è tempo per la figlia più carina del mondo! Le foglie che cadono sono bellissime! E poi c'è tempo per i lavoretti! Oh, quanto le invideo! Presto, pensa come intrattenerla! Piccola, non piangere! Dammelo! Giochiamo a Twister? Ti terrò d'occhio! Non parlare! Metti la mano sul giallo! Ginnastica colorata! Wow, bella mossa! Ho vinto! Una foto della perdente per catturare questo momento! Ah ah, è stato un successo! Batti il cinque! È inguardabile! Perdente! Hai dimenticato di sorridere! Ne ho abbastanza! Me ne vado! Qualcosa è andato storto! La mamma normale ha cucinato qualcosa di gustoso! Mmm, ha un profumo fantastico! Questo è per te! Mi sono impegnata tanto! Devo fare una foto! Oh, lasciamo stare! Oh, ci sono ospiti! Qui c'è... Tesoro! Mi sei mancata tanto! E Ellie è l'unica a non essere felice! Ok, mi è venuta un'idea! La mamma blogger è rimasta sola su TikTok! Ha bisogno di compagnia! Sei tornato! E non sono tornato da solo! Sorpresa! Ci chiediamo se una blogger riuscirà a diventare una mamma premurosa! Con una maestra simile ce la farà! Ora Ellie e Rosie sono amiche! Attenzione! Non toccate le star! La loro storia ha avuto un lieto fine! Ma ci sono altre persone che vogliono fare a cambio di mamma! Non ci sono più! No! 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 Grazie a tutti.